Qui, questo è un covo di solcini ragazzi. Assolutamente, hai visto, ho messo anche le orecchie. È stato il sogno della mia vita veramente, lo sai che io non ho dormito stanotte perché pensavo... Neanche io, perché dovete sapere che Sonia è la cugina di Equitalia, perché te tartassa come quell'altra. Però alla fine vince, questo è il dato ottimale per te, che riesci sempre a portare a casa l'ospite. Senti una cosa, ma volevo dire questo, ti sto dicendo molto emozionata ieri perché io ti ho sempre seguito, come tanti, però l'idea di, sei, tornando ragazzina, se mi avessero detto guarda che tu poi vedrai che il tuo idolo lo intervisterai in trasmissione, cioè sai, dici sì, vabbè, sei, Renato Zero. Ma pure tutti gli animaletti lo dissero di Noè, infatti poi li imbarcò tutti. Infatti, infatti, infatti. Allora, Renato Zero qui da noi ragazzi, abbiamo avuto non so quante centinaia, centinaia, centinaia... Sono tutti i parenti miei, sono tutti i gruppi, famiglia molto prolifica. Oh, guarda, mio padre erano undici figli, pensa. La voglia, però voi siete... Sky ne avrebbe fatto una lira allora. Voi siete cinque? Siamo cinque, sì. Eppure io sei, sono la quinta io, vero? Tu sei la quinta discendente o ascendente? Tre sorelle, un fratello, che vuol dire discendente? Sei la più grande o la più piccola? No, la più piccola. Ecco, io sono il penultimo invece. Penultimo? Annaggia. Allora, volevo dire una cosa che siamo andati a pranzo insieme all'auditorio, ti ricordi? Ti ricordo com'era. Esatto. E la cosa che mi ha colpito tantissimo, che mi ha veramente colpito tanto, è stata che tu hai detto, sono emozionatissimo per questo tour che dovrò fare. perché sai, se io andassi a cantare, non so, in Germania, in Francia, dovunque, farei il mio lavoro di cantante, bellissimo, eccetera, eccetera. Però l'idea di cantare qui a Roma, no? E di vedere le nonne, i figli, i nipoti, e io li conosco uno per uno da tanti anni, cioè li ho visti crescere, è una cosa che mi prende il cuore. E devo dire che lì mi hai preso il cuore ancora di più, perché sei fantastico. Guarda, poi l'effetto non è circoscritto a Roma, perché ho fatto già le mie capatine a Firenze, a Mantua, insomma… Tutte facce conosciute, ecco. Sì, ho riassaporato anche questo gusto che questa memoria in fondo non ha rughe, si è mantenuta vivace e austera e questo credo che vada a vantaggio proprio di un rapporto che ho col pubblico, che è un rapporto non di comodo, è un rapporto dove ognuno aveva bisogno dell'altro, capito? Io sono cresciuto, loro sono cresciuti, quindi abbiamo… e io soprattutto ho questa sensazione che siano tutti i nipoti, tutti i fratelli, tutti i padri, tutti i zii, perché la mia famiglia mi ha dato sempre questa opportunità di dare valore, soprattutto a risveglio, quando ti alzi la mattina e sei invaso da sti sorrisi puri, sinceri, da questo abbraccio caloroso di una bella compagine proprio di sostenitori che sono poi la famiglia, la vai poi ritrovando se fai il mestiere con attenzione e oculatezza e anche rispetto di te, perché poi alla fine chi viene preso in giro quando bleffa è l'autore del bleff, non è mai il malcapitato, quindi il pubblico si accorge immediatamente se sei nella tua veridicità o se invece stai già pensando al conto corrente. Quindi è importante, secondo me, in questo impegno che il tempo trascorra perché ho un gran rispetto di lui, considerando che a me mi ha graziato perché insomma a 69 anni mi muovo sul palco come Nureyev, nel senso proprio ho questa bella dote di resistenza, ma anche poi di pagamento perché, ripeto, quando ti ho rivelato l'emozione dell'apertura del sipario, è una sensazione che provo tutte le sere, quella è la certezza che sono ancora in grado di stare sul palco proprio perché provo queste sensazioni e perché le trasferisco sul pubblico che ne ha pagato. Infatti, è un rapporto di famiglia perché pure per noi, e ti dico di noi solcini, il tuo pubblico, ti vede come una persona di famiglia, cioè veramente è una cosa bellissima, penso che sia un po' unica nel suo genere. Ma poi guarda io, avendo mantenuto questa frequentazione stradarola, che vado sempre, me faccio sempre queste belle camminate a Roma, eccetera, e dal tassista al vigile urbano, alla vecchietta, hai sempre questa sensazione di appartenenza, di non essere mai solo, di essere conosciuto e riconoscere, perché poi, soprattutto sui bambini e sugli anziani, io vinco la scommessa, perché attraverso loro hai proprio questa sensazione di gradimento, di essere riuscito a meritarti quella fiducia che nei bambini e negli anziani è fondamentale. Quello è il termometro se tu stai vivendo bene, se stai facendo bene l'uomo, oppure se c'è qualcosa in te che non risponde a certi requisiti. Quindi devo dire che il pubblico poi è il mondo, non è il possessore del biglietto d'ingresso, il pubblico è l'abbraccio che tu ottieni dopo una serie di incontri e anche di impatti con la società italiana che poi è quella, secondo me, più proriginosa, è quella che maggiormente ti effettua l'attack, ti mette un pochino ai raggi X. E credo che sia questo un vantaggio che se gli italiani se lo riconoscessero vivremmo in un'altra dimensione oggi. Invece c'è questa sottosvalutazione o sottovalutazione che non ci consente più di essere padroni della nostra scelta, della nostra idea, del nostro essere, del nostro vivere. Perché abbiamo sempre la sensazione che per essere in qualche modo sicuri bisogna mettere una crocetta. E' proprio vero, guarda? Albertone, guarda. Grande Alberto Laurenti. Non basta una puntata per farti le domande che tutti vorremmo farti, però approfittiamo per ascoltarti invece e goderci Renato Zero da vivo. Io ho il privilegio di essere stato sempre un tuo silenzioso amico da tanti anni. Molto rumoroso invece, sia come humor che come anche presenza proprio umorale. Sei sempre rimasto, per fortuna nostra, l'Alberto che sforna melodie splendide di grande talento sia sulla chitarra che sulla tastiera. Quindi devo dirti grazie io di offrirmi un'amicizia così alta, così bella. Renato mio quello, cosa dici? Dico quello che è vero. Mamma mia. Comunque io voglio parlare del nuovo album perché incontro chiaramente tanta gente che ti ama e è superfacente questo disco per l'ennesima volta, anzi questa volta ancora di più. Più sound inglese, pazzesco, canzoni meravigliose. Anche le canzoni che non sono già estratte come singoli, già me ne parlano tutti come dei classici. Prima ti dicevo appunto, a microfono i spenti, di quanto sia bello anche quanto ti amo. Questa canzone che sta arrivando sotto traccia e tutti mi parlano di questo album. Che cosa è? È una classe, una semplicità disarmante. Io devo dire ho viaggiato sempre con questo passaporto, cioè anche nelle mie radici, nelle origini di questo mio lavoro c'è stato sempre questo grande attaccamento alla melodia, a questi spazi che la musica ti offre. Essendo stato contaminato poi da Tenko, Endrigo, Bindi, Paoli e tutti gli altri, insomma sei portatore poi di una continuità che è dovuta anche al nostro paese perché queste radici, ammesso che siamo in grado anche di concepire, di ospitare qualsiasi forma musicale ultima dal rap al trap a India e queste cose. Però devo dire, facciamo attenzione che un brano non viva solo le 24 ore, come lo yogurt abbia una scadenza, ma invece... Sì, diceva di te il maestro Lilli Greco, Italo Greco, il maestro Lilli Greco, diceva di te che tu hai fissato la bellezza in un'altezza così alta da creare dei problemi agli altri artisti di stava notturno. Sempre l'uso della grande orchestra, questo modo di voler essere sempre al top, diceva Lilli Greco, è stato un segnale importante per tutti i cantatori italiani, proprio per l'altezza nel quale tu hai fissato la bellezza. Diceva di te questo ritrovo. Io nasco molto luspante, se ascolti il tuo Safari, ascolti i brani di Non Mamma No, c'è il Graffio, c'è la Ribellione, c'è il Rock. Quindi, voglio dire, sono stato precursore e questo mi ha offerto l'opportunità di entrare dentro a un meccanismo splendido che è quello di dare al ritmo, di dare anche alla forza ritmica dei brani questa, anche lì, una certa vitalità e anche lungimiranza perché poi Madame, se suona oggi, suona ancora alla grandissima. Quindi, sono stato molto precursore, però devo dire che da un certo momento in poi, anche l'amicizia con Armando Trovaioli e anche questo grande affetto con Ennio Morricone, mi hanno sempre queste vicinanze offerto questa naturale versatilità verso la grande melodia, verso l'esecuzione altissima dell'orchestra quando è scritta e diretta in maniera così eccelsa. Quindi, se posso permettermi, raccomanderei a questi ragazzi di oggi di non perdere mai di vista la nostra tradizione che non prevede, certo, l'occlusione, la chiusura con la modernità perché poi abbiamo visto anche Freddie Mercury che i brani che si ricordano maggiormente di lui sono quelli con la grande soprano che si chiamava Monserrat Caballet Ecco, capito? Quindi, Freddie Mercury che è stato il rocker per eccellenza, però nella sua discografia quello che immediatamente odora di eternità sono proprio questi brani grandi e melodici. Capante, Renato. Senti una cosa, Renato, io invece penso che tutte le mattine quando esco metto in macchina il tuo Zero e il Folle il testo Zero e il Folle, lo sento due o tre volte, arrivo dove devo andare, mi metto in macchina e lo risento mi prende tanto e quando l'ho sentita al concerto con quel video, spettacolare, una cosa spettacolare, avevo i lacrimoni perché lì è la tua vita, no? Quella è la mia vita in quattro minuti. Esatto. Ma come mai Renato, palla con Renato Zero? Questo era un incontro-scontro inevitabile perché abbiamo in qualche modo barattato entrambi questa convivenza a fronte poi di un mantenimento della libertà, dell'autonomia. Io mi sono tolto dal giro delle multinazionali, mi realizzo gli album come voglio, vengono distribuiti in maniera personalizzata e vivo un percorso che era già annunciato perché Zero Landia, prima che ci mettessero i sigilli questi signori del potere, era uno spazio dove io facevo addirittura Natale a Zero Landia e a mezzanotte meno un quarto finivo la prima parte del concerto e poi c'era la messa con il sacerdote, con i ragazzi con le chitarre, addirittura c'era la possibilità di ricevere l'ostia e poi riprendevo la seconda parte. Quindi voglio dire, ho avuto sempre questa sensazione che avesse ragione Edoardo De Filippo, avessero ragione Titina De Filippo e anche Carlo Giuffre e tutti gli altri che facevano praticamente ditta, che mettevano sulla locandina la loro esistenza, il loro talento, la loro autonomia che è stata assassinata dal potere e dal consumismo perché eravamo tutti artigiani e poi improvvisamente qualcuno ha tirato fuori una mazzetta di banconote e si è comprato la nostra indipendenza. Senti, due consigli dalla regia, 3775 104 500, stanno piovendo, non hai idea quanti messaggi Renato Ma sono tutto bagnato infatti, ragazzi non c'è l'ombrello Una cosa incredibile, a tra poco Quanto vi voglio bene Ti sei staccato il microfono Sì, devo aver fatto un movimento Senti, stavo dicendo questo, ti capita la mattina, ti alzi, ti guardi davanti allo specchio e dici però Che cosa sono stato in grado di fare nella vita? Anche perché non è che ho avuto una vita facile, poi ne parliamo, lo sanno in tanti, no? Io ci provo, però lo specchio mi fa Date una mossa che non si vive di soli dischi d'oro Bisogna mantenere sempre alta la quota dell'impegno e anche del lavoro proprio Della effettiva operatività Perché poi io, devo dire, ho dei vuoti proprio di frequentazione dell'estate Quella vissuta come normalmente si immagina Perché io ho preso l'estate, l'ho messa al pianoforte e con accanto un computer Il computer solo dopo però, perché il foglio di carta e la penna sono la prova inconfutabile che non scrivi cazzate Perché col computer rischi di scrivere qualunque cosa perché poi si cancella Invece sul foglio rimane solo la verità Quindi queste stagioni, senza rimpianti, c'è dentro spiagge, c'è dentro cercami Ci sono dentro dei titoli che uno diceva Perché non sei andato a fare il bagnetto a Porto Cervo? Perché ho messo un tassello in più su questo mosaico che mi riguarda E che poi mi ha dato l'opportunità di essere in qualche modo strappato dalle grinfie della solitudine Di sentirmi condiviso quando all'inizio era quasi improbabile che lo specchio mi dicesse quello che stai dicendo te Lo specchio mi diceva molla, non insistere, trovati un'altra cosa nella vita Che ti renda meno zimbello di tutti e meno precario verso te stesso Invece vedi che anche occupare il soleone e metterlo a disposizione di una partitura mi ha fruttato molto Sono rimasta molto colpita Io dico sempre che c'è una parolina magica La parolina magica è impegno Quindi che risuona Nel senso che l'impegno poi diventa fondamentale Contrariamente a quella che è l'immagine che si possa avere Cioè che tutto accade così in maniera semplice, in maniera facile Che si portano a casa i risultati quasi magicamente I risultati che si ottengono invece E credo che questo sia importante sottolinearlo per chi ci ascolta È proprio frutto di impegno, di sacrificio Perché anziché andare a Porto Cervo io sono stato lì a produrre insomma Però c'è un lato del nostro paese che è molto discutibile Quello che chi nasce quadro non muore tondo, dicono a Napoli E questa è una roba che mi ha sempre un pochino ferito Perché io sono saltato dalle tavole del teatro tradizionale A quelle della sala prove, dagli Hoyals a queste sale prove per i ballerini Insomma mi sono mosso in diversi fronti Proprio per avere poi una completezza armonica E anche sinergica delle mie attitudini e delle mie possibilità Solo che ripeto Non ti viene perdonato in questo paese Il fatto che tu possa in qualche modo anche ogni tanto portare il tuo peso specifico Verso un'altra tipologia di arte e di partecipazione E a questo proposito, e lo dico anche per quelli che non fanno l'arte Ma per gli italiani in genere Noi siamo in questa cucina E abbiamo a disposizione questi nostri ingredienti E abbiamo un lievito madre consolidato da anni E improvvisamente in questa enorme cucina che è l'Italia Ti arriva qualche fio della mignotta Che ti mette dentro ai tuoi ingredienti qualcosa di non positivo E questo avviene sistematicamente tutti i giorni E lo fa anche un po' la televisione questo lavoro Di andare a infierire sulla qualità dei tuoi prodotti Parlo ovviamente vitali del tuo essere italiano E questo credo che sia drammatico Dobbiamo difenderci da queste provocazioni Da queste dottrine definitive Di un vivere che deve essere in qualche modo rapportato al consumismo Al dare i voti a casaccia Oppure a mettersi sempre a disposizione di qualcuno Che ti offre una via d'uscita Ma il prezzo da pagare è sempre estremamente salato E questo devo dire si riversa anche sulla mia cucina Anche sulle mie modalità di cucinare Perché l'artista è il primo a risentire di un malessere nazionale Perché noi cantiamo è vero la felicità Ma il più delle volte a me invece è capitato di cantare la sofferenza Perché è quella che maggiormente viene presa in considerazione Parliamo anche delle donne Di quello che avviene in questo paese Che è indecente che una donna che forma un numero per cercare aiuto Venga rimandata a un altro numero E poi a un altro numero ancora Finché l'uomo non trova l'opportunità di chiudere definitivamente il discorso Quindi anche Renato Zero vive di queste contaminazioni brutte Quindi io da questo momento prometto che sarò ancora più Diciamo impegnato proprio nell'utilizzare le mie note Proprio a favore di un riscatto che sia impositivo Perché ripeto il nostro lavoro è un lavoro di felicità Perché arrivare dove sono arrivato A questi abbracci A questa grande fiducia che mi viene attribuita Mi consente maggiormente di adoperarmi Proprio perché la qualità delle mie opere sia all'altezza delle aspettative Certo, senti Ma quando giustamente dici tu Questa è una grande accusa Viviamo in una società che è malata Oramai è malata Io penso che delle volte anche un ragazzo di 10 anni, di 15 anni Si rende conto che delle cose sono proprio sbagliate Cioè non ci vuole la genialità per capire E quindi dobbiamo anche pensare Che è un po' colpa nostra Cioè la nostra generazione è poco poco quella che ci ha preceduto Che è riuscita a distruggere il tutto Perché non c'è più il valore della famiglia Non ci sono più valori Non c'è più niente E poi se vogliamo parlare di politica Ma trovi tu che c'è qualcuno che pensi al bene comune Perché oppure pensano come sempre A litigare per chi deve sopraffare l'altro E perché ci sono degli interessi Cioè come si fa a prendere il bando della matassa Per dire no Perché sai E' un qualcosa che dipende un po' anche da tutti noi Nell'opera Zeroski Io ho scritto un pezzo che si chiama Tutti vogliono fare il presidente E questa credo che sia una lettura molto eloquente Di come effettivamente ci sia questa abitudine ormai così prevalente Sul fatto che ci viene offerta questa illusione Che tutti possiamo vincere le Olimpiadi Che tutti siamo in grado di conquistare una donna O tutti possiamo ottenere il posto migliore in un'azienda Cioè io credo che il blef oggi Queste fake news che così vengono chiamate Delle offerte false o falsate Debbano essere considerate come l'evenienza Di una poca attenzione verso se stessi Ma anche verso i figli Perché la nostra educazione civica è sparita dalle scuole E noi avevamo questa materia che era fondamentale Ma ci dobbiamo chiedere ma perché? Poi posso dire un'altra cosa Allora lo stipendio di un insegnante E quello di un medico Fanno sorridere per non dire peggio Sono questi due avamposti fondamentali nella nostra società Perché noi affidiamo i figli a qualcuno Che si prende la responsabilità totale Di portarli verso l'adolescenza e verso la maturità E con 1200 euro al mese Credo che sia offensivo Chiedere a una persona di offrire la propria disponibilità Considerando che c'è un bambino autistico Ce n'è un altro invece figlio del benessere Ce n'è un altro che non sente Ce n'è un altro che non vede Dobbiamo capire che una volta queste scuole Teneva conto di tutte queste differenze E diciamo che forse allora queste disparità Proprio di competenza e anche di attribuzione Fossero meno distanti di come sono oggi dalla realtà Lo stesso i medici Perché un medico che deve fare un'assicurazione E se un paziente gli muore sotto i feri Deve prendere il coraggio a quattro mani E difendersi addirittura in tribunale Se questo avviene Questo lo dico Sono piccole riflessioni su grandi problemi Tu mi hai chiesto delle risposte Io l'unica risposta che posso darti è gli esempi Vogliamo degli esempi veri Nei governanti c'è questa volontà Di volere in qualche modo difendere La salute pubblica Il benessere degli italiani E il loro futuro Allora ci vuole gente competente nella sanità Gente competente nell'istruzione Gente competente in tutti i ministeri Bel problema Siccome sono pagati Siccome gli operatori Per portare avanti questi discorsi Sono profumatamente pagati Perché non prendiamo veramente dei professionisti Perché è il gioco della politica Renato È il gioco della politica Perché se litigano per il posto Questo è il gatto che si morde la coda Renato Dove sei? Chi è? Chi c'è? No Aspetta Sono Ilario Ciao Renato Ciao Ilario Te faccio sto blitz Sei Ilaria Cioè sei in aria Ilario in aria Ti spiego perché Perché Sonia che ha detto che non ha dormito tutta la notte Non mi ha fatto dormire a me Ah bene Hai capito? Allora la prossima volta organizzate E non scopone scientifico No No Non mi ha fatto E lei lo sa Lei lo sa Vi volevo fare questo blitz Perché Perché Renato è Renato Insomma E quindi non potevo Sei molto caro Sei molto caro Non ho portato con me contante Però insomma Vedrò di ottemperare Hai capito? Sonia dice che non ha dormito Non mi ha fatto dormire pure a me Sono sorcina Perché come dicevi tu Che è come l'agenzia delle entrate lì E in effetti poi vince Poi vince Capito? Però lei la dimostrazione per le donne Per tutte le donne che ci ascoltano Che quando una donna decide Sì Di fare la donna Sì E quindi spesso gli attributi sono solo al maschile Questa volta li ritroviamo anche fra linguine di queste donne È così che le vogliamo le donne noi Determinate Proprio per darci la soddisfazione Che le nostre madri sono ancora presenti Che quella tipologia di donna È ancora vincente Questo vogliamo vedere Non donne deboli Mai più donne deboli Donne che combattono Donne che denunciano Donne forti Grandi madri Ce ne sono tante in giro eh Amor io sono cresciuto Con cinque donne a casa Le mie tre sorelle Mi nonna Renata E mi madre Ada Sì sì mi ricordo Per cui la donna per me era come dire L'orizzonte Cioè io vedevo le montagne c'erano la faccia di nonna La pianura di mamma I trulli d'albero bello erano le mie tre sorelle Cioè avevo questa sensazione che la donna fosse proprio il ruolo Ma poi abbiamo sempre detto che questo era un paese matriarcale Però conveniva dirlo perché era la copertura dell'uomo Era l'alibi perfetto perché lui comandasse invece Certo Quindi era matriarcale solo per amministrare lo stipendio Perché meglio della donna Noi mangiavamo a casa le stesse patate cinque volte a settimana Una volta gâteau Una volta fritte Una volta in umido Una volta pasta e patate Mangiamo sempre patate Però ci sembrava di mangiare sempre cose diverse Renato ti posso fare tre domande al volo e poi me ne vado Facile Se no Sonia mi picchia Facile La prima se hai un grande rimpianto professionale La seconda qual è il tuo grande sogno attuale E tre Mi sono sempre chiesto anch'io Ma fra i tantissimi brani di Renato Qual è quello che io sceglierei Ti giuro non Divento pazzo A questa domanda non so cosa rispondere Tu sapresti rispondere qual è la tua canzone Il brano è il prossimo Il prossimo E poi le altre due domande Se hai un rimpianto professionale E qual è invece il tuo grande sogno di oggi? Ma il rimpianto professionale Io non credo di averlo Perché ho praticamente passato al setaccio Tutte le problematiche del mondo Ho cantato la guerra La pace L'amore Il rimpianto Il rimpianto poco devo dire L'ho cantato poco perché Non ho stima del rimpianto Perché è un sentimento perdente È un sentimento Che non deve Proprio far parte di un vocabolario E poi Devo dire che Come ho detto prima Sono riuscito anche Nelle piccole porzioni della mia vita Ad essere un grande ballerino Ho ballato persino con Jimi Hendrix Al teatro Brancazzo di Roma Ero uno degli otto ballerini Che aprivano il concerto di Jimi Hendrix Quindi lì ho dimostrato il ballerino Ho lavorato con Ivo Chiesa Al teatro stabile di Genova Nell'Anconitana del Ruzzante Con la regia di De Bosio Ho fatto il primo musical in Italia Che era Orfeo 9 con Tito Schipa Che fu un successo straordinario Che ancora oggi fa tremare dalla bellezza E soprattutto dalla verità Ho fatto Hair La versione italiana di Hair Il musical Ho doppiato Jess Kelton Nel film di Tim Burton E ho avuto il plauso addirittura Di Danny Elfman Che era l'autore della colonna sonora Nonché l'interprete originale Quindi ragazzi Chi vuole un santo se lo prega Nel senso che Volere è ancora potere Grande Renato Grande un bacione Ciao Ciao Renato Ciao Eladio Certo che arrivare a Incredibile la tua vita Perché tu da Via di Ripetta Che Via di Ripetta Per chi ci ascolta Da varie parti d'Italia È un po' il centro di Roma È la culla di Roma È la culla di Roma Quindi un posto così Poi ti sei figlio di un carabiniere Tuo padre è stato Poliziotto Poliziotto Sennò si offendono Sia i poliziotti Che i carabiniere C'è una lotta Tra i carabiniere e i poliziotti È vero E poi tuo padre è stato Trasserito Quindi alla Montagnola No Ci hanno mandato proprio via Perché San Giacomo Comprò il nostro palazzo Dove abitavamo noi L'ospedale San Giacomo Ah ok Quindi dovemmo Proprio andare perché E lì è stato Un po' come cambiare città Perché ti sei trovata Cambi modo Cambi modo Perché ti sei trovata La Montagnola Che è un quartiere molto popolare No Quindi questa cosa Ha influito tanto Sulla tua vita Perché Sai Poi l'infanzia È la fotografia Definitiva Che tu esibisci Anche a 80 anni Perché È lì che si imprime Il colore L'emulsione La potenzialità Proprio di immagini Di sensazioni Di luoghi E anche di vicinanze Per cui È chiaro Che venendo Da quel patrimonio Il silenzio Della periferia Il poco Il poco parlare Nella periferia Perché c'era In fondo Questo imbarazzo Dove La periferia Nascondeva molto Le persone I sentimenti Capito Mentre Roma Aveva la chiave Nella toppa Sapriva Si dicevano Li mortacci Qui Li mortacci Là Perché c'era Questa confidenza E questo Avere un'aspirina Sempre per il condominio A disposizione Di là invece Era omertosa Questa periferia E spesso produceva Anche tanta solitudine Quindi È vero Che la solitudine Del centro Per me Fu molto sentita Perché i bambini Nel centro Non c'erano Perché ci abitavano Nobili E famiglie Diciamo Molto adulte Anche agiate E soprattutto Non c'era Proprio Questa materia Prima dei bimbi Perché io Sono cresciuto Con gli anziani Poi andando Nella periferia Ho trovato Questi amici Cosiddetti Coatti Che mi hanno All'inizio Un pochino Insidiato Ma hanno un po' Circoscritto Perché ero Diciamo Bersaglio Mobile Ma anche facile Perché poi Da soli Ma tu poi ce la mettevi Tutta pure Io l'ho sempre Molto Diciamo Ci ho parlato Mi fermavo E gli dicevo Ma c'è qualcosa Che non funziona In me Oppure voi siete Un pochino Troppo esigenti Nei confronti Di qualcuno Che ha un'educazione Diversa dalla vostra Questo parlare Questo a quell'età Poi questi si bloccavano Si guardavano Come di Ma che stiamo a fare Qui Ma andiamo a casa E quindi io Non solo Non solo portavo A casa la pelle Ma addirittura Questi alla fine Ma questo è simpatico Sto ragazzino Sto ragazzino È un fenomeno E allora Vedi Quinto Di Dormarancia Che purtroppo Non c'è più E tanti altri amici Della borgata Addirittura Quando c'è un problema Renati Chiamaci Che noi interveniamo Erano le mie Guardate il corpo Cioè pensa Come si può Delle volte anche Guadagnare un territorio Senza raccomandazione Senza evicinanzi No ma ti posso dire una cosa In questo periodo In questo periodo Dove l'arroganza La fa proprio No da regina No e dove C'è tanta violenza Verbale E non solo Cioè l'idea Il concetto di dire Scusa Parliamo con calma Ti faccio capire Cioè li estesi tutti Sì no ma poi sai Il fatto che Ero già Diciamo Esteticamente Avevo già Un vestito Che Perché sai Quando Sono cresciuto Lì al centro I vestiti erano Di Zingona La Maddalena E di Giacinti Negozi Ai ragazzini Mettevano i fiocchetti Tanti bottoncini Lo sciabò Le ghette Le cose Cioè Questi Dice Ma questo È uscito Dall'Ovo di Pasqua Per cui avevo già Diciamo La provocazione Involontaria Ce l'avevo già addosso Capito Per cui Quella roba lì È quello che ti aiuta Poi a conoscere la gente Perché se tu non ti mostri Per quello che sei Nel bene o nel male Se non ti mostri Fai confusione La gente Travisa Quello che vuoi essere Quello che vuoi dire Come lo vuoi dire E quindi Se creano poi Questi compartimenti Capito Senti ma quando uscivi da casa Che ti vestivi Con piume Cioè tutto bello luminoso Mantelli Così No non uscivo così subito Ah non uscivi Devi uscire Bellissima questa cosa Meravigliosa E ti ha fatto uscire così Sì si ma ha fatto uscire così E da allora Papà Pensate che avventura mentale No ma papà guarda Cioè adesso Perché non ci sia più Perché era mio padre Ma papà Essendo figlio di contadini E di pastori Undicesimo Per l'esattezza Risentiva un po' di quella Quiete di quella pace Di quella pace Dell'anima Che è presidio Proprietà proprio Delle persone Semplici Capito Cioè io credo Che quando Te prendi la laurea Hai ammazzato Qualcuno Dentro Per diventare Laureato Capito Che voglio dire Cioè nella vittoria Della cultura C'è la sconfitta Della purezza Le due cose insieme Raramente Convivono Capito Quindi papà Aveva in qualche modo La ragionevolezza Con l'istinto Si erano fusi Si erano messi d'accordo E hanno detto Adesso c'hai pure un figlio così Quindi Lascialo libero Cioè secondo te Quando i genitori Incanalano un figlio In un percorso A volte può essere Un po' una violenza Quella si chiama clonazione Che è una scienza Che è a borro Perché Nessuno È clonabile Men che mai Certi soggetti Meglio che siano unici No? Ecco Per cui Io penso che La libertà Proprio di movimento Sia Proprio la La migliore educazione Che puoi dare a un figlio Oggi Dovesti dare un suggerimento A delle mamme I papà che ti stanno ascoltando Che magari hanno dei figli Che sono un po' Parlate di più Parlate di più Parlate di più Ma quando Se li vedi Che sono un po' particolari E non vogliono studiare Però non si capisce Cosa vogliono fare Loro cercano Cercano sempre un dialogo Questi ragazzi No? Questa è la cosa fondamentale A scuola magari C'è questa Disparità Dove ognuno Ha ragione Sulla propria Origine Sulle proprie Famiglie Sui propri Retaggi Sul colore Capito? Ognuno di loro Ha queste problematiche Quindi a scuola Ognuno difende La propria identità Ma nessuno La confronta E men che mai Ripeto Un solo insegnante Che poi Viene malmenato Da un genitore Se qualcuno Si permette di dire Che il ragazzo È particolare Questo è un altro capitolo Un altro capitolo ancora Ma tu pensai Ci sono le chat Delle mamme Non so se ne hai sentito parlare Perché qui spesso Vengono Si parla di questi problemi Ci sono le chat Delle mamme Fanno queste Delle compagne Cioè le mamme Dei bambini Della scuola E che cosa fanno? Pagliano tra di loro Contro la maestra Perché la maestra Ha detto questo Ma no ma che cosa Tutti Tutti Compatti contro Ma come si può Dare un'educazione così? Perché scusa Ma quando eri piccolo Comunque Tuo padre che rappresentava Un'istituzione Comunque Anche usciva per strada Vestito da poliziotto C'era anche un rispetto No per lui Oggi C'è rispetto per qualcuno? Per il poliziotto? Sai mio padre Non l'aveva? Per il giro urbano Per la maestra Per Diciamo che oggi Se un figlio Ha una certa Tendenza O appare Con certe caratteristiche Si pensa Dal fronte dei genitori Anche del corpo insegnante Si pensa che Tocchi la droga Che frequenti persone poco raccomandabili Che sia gay Che abbia tendenze criminose Delinquenziali Eccetera Ci si sofferma A questo identikit Che sommario E che viene suggerito Da una società Che invece Di comprendere Queste Deviazioni Eventuali Le condanna Senza Andare ad approfondire La natura E la verità Di questi Cambiamenti Li si condanna A priori Spesso Falsando anche Nel giudizio L'indole Del soggetto Perché se tu Ha un soggetto E dici Tu per essere così Te pipi la cocaina Il ragazzino Dei 16 anni Che non pippa la cocaina Gli hai dato un'idea Gli hai fornito L'alibi Dice tanto lo sanno Pensano che io so così Tanto vale Che metto in atto La pratica Cioè voglio dire La casa È il luogo Deputato Di formazione Dei ragazzi Te lo dico perché Quando ti ho parlato Di via ripetta Che eravamo Eravamo dodici In famiglia Dentro la casa Perché oltre noi Sei Perché mio fratello Non era ancora nato C'era mia nonna I miei tre zii scapoli I fratelli di mamma E un cane Pastore tedesco Femmina Che si chiamava Jay Quindi eravamo Questa bella caserma E sai questo Questa fortezza Ti garantiva Delle spalle Così forti Capito Una copertura Così totale Che quando uscivi Non te fermava nessuno Capito Voglio dire Questa La forza della famiglia Questa consistenza Sono anticorpi È palestra Diciamo Ipotetica Nel senso che La muscolatura E l'ossatura Te la fai anche così Non c'è bisogno Che vai a iscriverti Se tu hai una famiglia Dietro Che ti sostiene Che rafforza Le convinzioni Che sei Una lavagna Bianca Che vuole essere scritta Il padre e la madre Sono i primi A scrivere Sulla lavagna Ma gli ultimi A giudicarla Certo Giusto E non è sempre così Allora Renato Ci stai dando Proprio Delle Mamma mia Io delle volte Mi sconvolgo Dico Ma Esci da questo corpo Mamma mia Che bello Senti Due consigli Per gli acquisti A tra poco Renato Zero Un piccolo omaggio L'anima E alla memoria E soprattutto Ci dà Quello stimolo Per fare sempre meglio Che bello Vederli in quel maxi schermo Bello Sì Emozionante E' stato Emozionante Senti L'amicizia Perché cosa Si è seduto qui Vicino a te Un amichetto tuo Io voglio molto bene Ad Antonio Rebuzzi Perché si occupa De una parte Del corpo umano Che è quella Che emette Radiazioni buone Nei sentimenti Nei proponimenti Nei contatti Proprio umani Quindi il cuore E la sua specialità Eppure la mia E' vero E' vero Sono due specialità Cioè Visto da un punto O dall'altro Antonio Approciamo E allo stesso organo Da due Parti diverse Da due punti divisi Mi ore Fare una domanda Antonio però Tu quando Fai per esempio Una coronarografia E vai E vedi L'oggetto Questo diamante Dentro all'uomo Riesci a capire Se quell'uomo Il grado d'amore Che può Produrre O di Invece di indifferenza No Diciamo Quando approccio Quell'organo In realtà Devo stare attento Ad altro Perché altrimenti Faccio un guaio Diciamo questo Che nella cardiologia Un cuore molto grande E' malato Quindi mi augura Di trovare Sempre i cuori Ma potrebbe essere Scusate Dico una fregnaccia Ma potrebbe essere Malato anche Perché ha amato tanto Per quello Si è ingrossato Assolutamente Nell'attesa anche Di essere corrisposto Si 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 ingrossa Ma allena arriva Quindi è un ingrossamento A fondo perduto Può pure capitare Questo è patologico Può pure capitare Che poi Cerchi al cuore E non lo trovi Cioè Quello Quello è seria Come cosa Perché lui Sicuramente Mette sotto sopra Il gemelli Per cercare Quel cuore Non tutti quanti L'hai visto Non è passato Uno adesso Ma Non c'è Nome Cognome Senti amici I tuoi amici Sono quasi tutti Ridottori Perché piano piano Non so se Come si chiama Il santo protettore Ridottori Come no No lo so San Bisturi No insomma Ho fatto stacchi Io ho queste amicizie Così Asettiche Da Da saloperatoria Però Mi conforta Perché Dall'altra parte C'ho tanti amici Sacerdoti Quindi Dall'incudine Al martello Non è una bella cosa Non è una bella cosa Che ne sai Può darsi pure Che io Ci abbia In fondo Una missione Vedi Il fatto che Con le canzoni Riesco A tirare Fuori Dalle persone Il coraggio Spesso anche La speranza E lui fa La stessa cosa Quando mette uno stand Li fa volare Li riporta Incareggiata Quindi Abbiamo Vedi Perché c'è Questa similitudine Nell'amicizia Fra me e me Dico Che facciamo La stessa Cerchiamo Di rallegrare La vita Degli altri Di renderla Ancora più Lungimirante E anche più Più fattibile Insomma No Senti ma A parte la famiglia Nel momento in cui Eri renato Zero Prima Da voi Ai tempi Amici Perché tu eri Molto anomalo Oddio ragazzi Però ho avuto Tanti amici Ecco quello Perché poi Il Piper Favoriva Questa Condivisione Perché eravamo Tutti figli In fondo Non solo Dei fiori Ma figli Anche Di un rigetto Di un sospetto Quindi quando arrivava Il carrettone Noi ci infilavamo Dentro direttamente Perché ci eravamo Un po' Scocciati Che questi Non avessero capito Che eravamo sempre Quelli E saremmo stati Quelli per tutta la vita Quindi è inutile Che ci porti al commissariato Tutte le volte Che tuo padre Ti trovava Per fare che Per dimostrare Che Il banganella È più forte Della fantasia Della genialità No Quindi Entravamo dentro Poi questi Si sono talmente scocciati Che entravamo da soli Che non sono più venuti Perché avevano perso la guerra Cioè ci sono arrivati Beh andiamo a far No ma sai la cosa Molto divertente Che c'erano delle signore Lì Giù Del tagliamento Di piazza Verbano De quei posti lì Che arrivavano Passava il tram L'autobus E queste vecchie Da casa Avevano messo l'acqua Dentro queste sacche De plastiche Ce le tiravano Dal finestrino Capito Capito Ci facevano Il gavettone Pensa ma No ragazzine C'erano Ottanta Settantanove Sessantadue Perché eravate Ragazzi persi Considerati Proprio ragazzi persi Insomma guarda Sti bagni così Devo dire a noi Non ci schiodavano Vedi Siamo stati In quello Una generazione Ostinata E abbiamo fatto bene A rimanere E i tuoi fratelli Non ti hanno mai seguito Le tue sorelle Magari No perché forse sai L'eccentrico E uno poi In una famiglia No perché Ma ti trattavano a casa I fratelli Lasciassati tuo padre Come l'eccentrico Oppure Vabbè tanto quello Un po' prorompente In effetti Sicuramente C'è del vero In questo Perché le persone In fondo Più Che si espongono Maggiormente Sono quelle che Nel profondo Sentono Questo imbarazzo Questo confronto Lo vivono male Con gli altri Quindi E' chiaro Che forse Una delle ragioni primarie Della mia Sfacciataggine Di questo Coraggio Così Evidente Fosse proprio Uscire fuori Da questo recinto Allora Mi dicono Pubblicità Renato Zero Qui con noi Stanno arrivando Tantissimi messaggi Ma di amore Tantissimi messaggi Di amore Guarda Insomma Alberto Penso che lo potete Pure invidiare Questi sono tutti Cuori salvi Questi sono tutti Cuori salvi Io invidio molto L'amore di Renato Begliamici Cioè Io Lui Si dà da fare Per tutti Infatti Allora Ne parliamo dopo Pubblicità Io Le donne Non le capisco Bravo Matteo Bravo Matteo Grazie Bravo Matteo È passato a trovarci Vedi Vedi i talenti Cominciano a farsi sentire Allora Lo dobbiamo dire Agli ascoltatori Agli amici Di O le donne Non le capisco Di Radio Radio Matteo È un sarcino Sì Non si era capito No Va bene Ma non sentono Cantare uno Dice ma chi sarà questo Però veramente Guarda L'intonazione È arrivato qui Ha voluto cantare Veramente gradevole No ma vedi Senza la macchinetta Eh Questa maledetta macchinetta Senza la macchinetta Senti Guardi ho visto Su Youtube Un trapper Che litiga Dal palco Col pubblico Mentre era inserita La macchinetta E dice Mortacci tua Ma vedi Scendo giù E te meno Perché la macchinetta Lavorava Sull'intonazione Tutti erite Non è una minaccia Quella È una gag È una canzone Ma scendo E te ne sono Qui continuano Ad arrivare Un sacco di messaggi Adesso piano piano Te li leggi Nelle pubblicità Ce le stiamo leggendo Ma tanti di amore Ma magari avevi tutti questi messaggi d'amore Antonio No io invece volevo dire una cosa Cioè Renato Io sono fissato che canto Cioè Renato Odia questa mia abitudine No io non odio Dispreco Aborro Aborro No La cosa divertente Al mio compleanno In campagna Velletri Che lui ama molto Mi sono messo a cantare Alla fine Quando ho finito di cantare Renato mi guarda Io stavo già a casa No Si alza E fa Dice vabbè Visto che tu canti Io muovo dal gemelli A fan angioplastico Bravo Renato Sono due i fenomeni No Sono due i fenomeni Per la stessa ragione E sono due le reazioni mie Per la stessa ragione Lui quando canta Antonio Rebuzzi Che dice Guarda Il grande Cardiochirurgo Che Prende il microfono E canta E l'altro Che fa però È un pochino In una In una Dimensione Un pochino più Discutibile Che è Marco Travaglio Che lui canta Solo zero E canta Per lo più Baratto Profumi Balocchi E Maritozzi Tutti questi pezzi Molto impegnati Travaglio E vederlo Cantare queste cose Veramente Guarda Uno dice Vedi È molto discusso Travaglio Però invece lì Dimostra proprio Una simpatia E anche Una sportività Pazzesca Come canta? Travaglio È un nome d'arte Travaglio Devo dire noccia No è uno Stato mentale Senti però posso Posso dire una cosa Visto tu non sei Renato Ma pure io E Loredana Ogni tanto Vogliamo cantare E Alberto dice No Non vi faccio cantare Perché è una cosa Tranne Quando ci invita Che ci asserate Dove tutti cantano In coro Fa dal microfono Sonia Loredana Adesso potete cantare Perché in mezzo alla gente Pensate I tempi commissariati Sono pieni di gente Che vuole cantare Allora Volevo dire una cosa Volevo dire una cosa Visto che c'è Antonio Ci sono io E c'è Loredana E faccia cantare una cosa A voi Davanti Davanti a un grande La messa cantata Lo sai che ci dice Ci dice Che dobbiamo passare Prima da Lourdes Sì 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 Certo certo Allora dai vai Ce l'hai una canzone Proprio di Renato Addirittura No questo no Questo non ve lo Non le roviniamo Magari Tanto scrivere Vi concedo una cosa Facile e facile Tipo ci sono due coccodrilli No Ti pare che ogni settimana Ci devo offendere Questo da una cosa Dai Guardi faccio fare Faccio un altro piccolo Omaggio a Renato Con una canzone Di una sua grande amica No però deve essere facile Perché deve cantare Vi faccio fare Soltanto il ritornello finale Io sono certo Che lo fate bene No mi devi dire La canzone intera Oggi mi dice No 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 Trattiamo Qual è la canzone E non si può dire Guarda ascolta Ascolta Guarda Guarda Voglio dire abbiamo suonato Gabriella Gabriella Dolce Mi dici due parole Su Gabriella Ferri Questa grande artista Due parole non bastano Non bastano Ma è vero che non è più nata La Gabriella Ferri Non è più nata No ma non c'è Più testaccio Trastevere Sono finiti i luoghi I teatri Di queste meravigliose Espressioni Capito Cioè una romanità Che Quasi involontariamente Ma con molta prepotenza Veniva fuori E contaminava Anche chi non era romano Insomma Capito Quindi si è persa un po' Quella dottrina Quel modo di essere Disinvolti Anche Anche sfrontati E anche un po' Irruenti Sai Il romano I nostri romani Avevano questa Questa grande padronanza Di se stessi Capito Quindi difendevano Questa romanità Difendevano Le tradizioni E anche poi Il palcoscenico ideale Per la romanità Erano i parcheggi Perché tutti quelli Che hanno cantato Roma Sono passati Attraverso La trafila Dei parcheggiatori Perché Se volevi sentire E cantare Romano Vero Con quelle Cadenze Con quello spirito Dove Fermata Un parcheggio Dove c'erano questi O con la fisarmonica O con la chitarra Che intonavano Questi pezzi Poi insomma Gabriella Veniva anche Da una Realtà Come quella del padre Che era Anche lui Un poeta E un musicista Quindi Gli ha trasmesso Evidentemente Questa Questa Verbe Questa Anche questa Questa poesia Questa bellezza Perché Gabriella Era bella Anche se non apriva bocca Era proprio Il teatro Era proprio Questa forza Espressiva Ripeto Al di là Di quando Aprisse la bocca E mettesse Quel suono Meraviglioso Della sua voce Bello Un saluto Alla nostra Grande Eh sì Anche Al figlio Eh c'è Sieva Sieva Junior Ciao Sieva Che ha fatto Tanti figlioletti Tanti nipotini Ed è un ragazzo Strepitoso Non ha la televisione A casa quindi No Non l'ha voluta mettere Però insomma C'è da da fare Devo dire che Sai Oggi spaventa Avere un figlio Pensa a farne Credo che lui Sia a cinque Adesso Ah che meraviglia Eh Devo dire che però Eh non si ferma mai Dalla mattina Alla sera Lavora Fa un sacco di cose E questi ragazzi Se li è cresciuti Benissimo Quindi Gabriella Dallassù sarà Strafiera Qui mentre voi Parlate di cose serie Ci passiamo Il radio radio Caffè Stiamo usando la radio Impropriamente Come direbbero Il radio Ma questo Questo è un solotto Capito Però insomma I nostri amici Vanno ricordati Come Nelle nostre Consumanze Costumanze Si dice Vero Costumanze Senti c'è una Ascoltatrice Che ti ha scritto Renato Sei il mio cardiologo Del cuore Ah ecco Rebuzzi Poi pure andrà a casa Non manco come cardiologo Funziono più No guarda Non sia mai che Abbandoni La postazione Perché Sei talmente bravo E perfetto Stavamo parlando Dell'amicizia Hai detto che è generoso Lui molto Ma si vede Sì sì No ma Non è solo questo Adesso a parte Io mi ricordo Che lui abitava Prima Vicino casa Di mia madre E Mamma si ricorda Che a Natale Renato passava Per tutti i negozi Per fare la colletta Per i carcerati Sì sì Lui andava Negozio per negozio Vicino via Piazza Igea Eccetera Per fare questa colletta Ma era Forma Di natura La colletta Cioè panettoncini Spumantini Sì sì E andavo Non solo A Casale del Marmo Al carcere dei minori Adesso non voglio Farmi pubblicità Però Siccome ho ribadito Anche una volta Allo Stadio Olimpico E molta gente Con grande piacere Me lo rammenta E che Rimassero proprio Da questa mia Asserzione Rimassero abbastanza Segnati Che dissi Non state con gli amici Solo quando hanno La carta di credito Cicciotta O quando possono Permettersi Di 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 Abballare le vostre Esigenze Le vostre richieste Andate pure Quando negli ospedali C'è bisogno Di un Di una stretta di mano Di un sorriso Bella che si vede Io ho sempre preso In considerazione Questa piccola Partecipazione Ma significativa Di quando vai In questi luoghi Soprattutto Nelle festività E devo dire Che molte volte Ho avuto L'amara sorpresa Per voce Di questi anziani Per esempio Di sapere Che i loro figlioli Erano andati Il giorno prima A ricevere La pensione Della madre E quindi Anche questo Spero che non accada più E spero che comunque Si possa In qualche modo Anche spendere Un po' Del nostro tempo Quando ci sono Queste feste Per andare Soprattutto Al Bambin Gesù Dove c'è bisogno Di grande Stimolazione Perché abbiamo Proprio Questi bambini La sofferenza Dei bambini E' quella che Maggiormente Ci rende Tristi Ma Ci fa pure Capire Quanto la vita Debba essere Preservata E Soprattutto Alimentato Questo coraggio Che hanno Questi genitori Che devono Proprio Anche durante Le feste Stare Vivere Una Situazione Come quella Dove La solitudine Purtroppo Diventa Quasi Preponderante Perché ci si sente Forse anche Impotenti Di fronte Alla malattia Però Insomma Come dicevi tu Sonia In un mondo Che Sta dimostrando Rabbia E anche Una certa Ferocia Bisogna Quelli che possono Sono quelli che hanno Ancora Questo slancio Questa capacità Proprio di Farsi carico Dei problemi Degli altri Non è sbagliato Andare E portare Una parola Magari Anche Anche solo La presenza Può essere Estremamente Importante Anche perché Il cambiamento Noi diciamo sempre Bisogna cambiare C'è delle cose da cambiare Gli altri Devono cambiare Ma il cambiamento Dobbiamo essere noi I primi a portarlo Bisogna togliere Prima di tutto Il sospetto Esatto Che credo che sia Il nemico numero uno Dei rapporti Perché C'è sempre questa idea Col fatto Che poi Ci può stare Che certi Gesti Certe Certe Azioni Provengano Spesso da persone Che venivano Fino a quel punto Reputate Immacolate E prive Di ogni Possibilità Di Di Essere Astiosi O addirittura Violenti Però Se ragionassimo Così Significherebbe Proprio L'ermetismo Chiudersi A riccio E non fare più nulla Invece Bisogna sempre Pensare Che Magari Capitare Quando hai Questa sensazione Che c'è una persona In difficoltà Capitare Nel momento opportuno Può decidere Le sorti Anche Della salvezza Di un Di un essere umano O almeno La modificazione Di certi Suoi intenti Capito Quindi C'è una cosa Posso dire Questo sono abbastanza Esperto Nel senso Che come Responsabile Di una terapia Intensiva E gli anziani Adesso Sono più soli Di prima Molto più soli Penso di dire Una cosa Abbastanza banale Però Accanto ai bambini Secondo me I più deboli Sono gli anziani Perché In questo mondo Dove Bisogna essere Giovanili Quelli che sono vecchi Fanno finta Di essere giovani Eccetera Soprattutto In alcuni reparti In cui Tu vedi Questi vecchietti Che stanno morendo E non c'è nessuno Dei parenti Che gliene frega Assolutamente Nulla Desiderano loro Di morire Cioè Secondo me È così Perlomeno Questa è la mia sensazione Ci sono alcuni anziani Che Diventano Non li viene a trovare Nessuno Cioè Noi medici E gli infermieri Dice ma Quello Non viene nessuno A trovare Cioè no Perché Se è separato La moglie I figli Non lo vogliono più Eccetera E tu vedi Sti poveri Disgraziati Che Praticamente Non hanno più interesse Neppure nella vita E questo per me È drammatico Comunque Proprio A proposito Di quello che dice Antonio Sono le fasce Più Come dicevamo All'inizio Di questo nostro Incontro Che i bambini E gli anziani Sono sempre quelli Che pagano Un prezzo altissimo Per esempio Anche i bambini Quando si va Al bambin Gesù E si va nel reparto Terminale Dove ci stanno Ste creature Che sono Destinate Io adesso vi racconto Una cosa Che mi fece Proprio Una grande Un grande dolore Andai A trovare Questi bimbi Sempre nel reparto Terminale E Entrai In una stanza E c'era questa mamma Che accudiva Questa bimbetta Che avrà avuto Massimo Due anni E mentre la mamma Era riversa Sulla bimba E' arrivato Questo signore Che evidentemente Era il papà E si è Appreso il posto Della mamma Che è uscita Dalla stanza Io sono andato Nella stanza successiva E c'era la donna Riversa Sull'altra bimba Quindi erano Due gemelline Che andavano Via insieme E questa cosa A me Mi ha raggelato Perché ho detto Guarda Questi poveri Genitori Che devono Patire Cioè Quando il destino Veramente E' di una crudeltà Perché quella Non è una coincidenza E' un fatto Talmente inumano Capito Però per dire Vedi che delle volte Anche essere lì E portare magari Con la propria presenza Anche una parola Anche una testimonianza E' fondamentale Proprio Capito Perché Insomma Stiamo a parlare Di Di Il sacrificio Di Di Dare la vita E vedersela Poi scippare Senza poter Assolutamente Avere Nessuna Possibilità Di 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 Appello Sai qual è il problema Secondo me E che Il vero senso Della vita Lo capisci Proprio in queste occasioni E se la gente Sapesse Che C'è gente Che vive di fuffa Non lo dici Tu Vive di superficialità Di cose oggi E così Ma se si rendessero conto Che poi quando prendono Entrano nel problema Familiare Che li colpisci Vedi che Barcollano Però poi dopo Vi prendono la vecchia strada E continuano In perterri Cioè Ce lo può dire più Loredana Anche Siamo poco Focalizzati Sul vero senso Della vita Su come bisogna Godessi Le piccole cose Perché si va sempre Alla ricerca di qualcosa Cerco Devo fare questo Devo fare questo I valori Non esistono più Capire che Oggi ci siamo Domani non ci siamo La telefonata in più A papà Falla No? Perché non sai mai Domani che può succedere Sai che mi ha detto Più di una persona Di una certa Autorevolezza Perché Certe frasi Vengono Da Non necessariamente Dall'alto Di una grande cultura Ma sicuramente Dallo spessore umano Di qualcuno E più di qualcuno Mi ha fatto Questa Questa Osservazione Mi ha voluto Puntualizzare questo Che il dolore Va Dove lo possono Sopportare Ed è una cosa Che ti fa riflettere Perché se Se noi guardiamo bene Che gli stolti La gente superficiale Anche i figli Di puttana Godono La salute De ferro Gli va sempre bene Ma chissà che non sia una punizione quella Capito Che tu devi assistere Al tuo declino All'espiazione Di tutte le malefatte Che sei stato in grado Di produrre E questo campare Fino a 90 anni Possa essere La punizione Proprio Più atroce Perché credo Che sia così Che alla fine Un essere umano Che non ha Rispettato Certi valori E certe regole Più Più campa E più sapia Quel posto Esatto Due consigli per gli acquisti Renato Zero Tra poco Artista immenso Io sono una piccola artista Che ti ammira E ti ama da sempre Sono ora al Sistina Con Mary Poppins Nel ruolo della vecchietta Dei piccini Saremo felici di averti Con noi Quando vuoi Venire Ti aspettiamo Anch'io viaggio sempre Con un ombrello Mary Poppins Era Mamma mia Il cambiamento Il cambiamento Per me è Renato Che ha dato forma Alla mia vita Colore amore Alla mia vita Pensate Lo ha fatto senza Che io lo sapessi E ora può chiedermi tutto Amore oltremisura Mamma mia Renato Ciao Renato Non ci hai mai negato La favola Mai Non ci hai mai negato A nessuno Neanche voi L'ispirazione Per poterla Interpretare Cito una tua canzone Non fosse stata musica A guarire i silenzi miei Non starei qui A difenderti Non ti chiederei Di credere in lei Lo sai Grazie Renato Mi hai spremiato Tanti soldi di analisi E mi hai insegnato Due cose A dire A povera Loretta Signora Lei è disoccupata Da adesso Quindi abbiamo capito Una cosa E oltre ad essere Un cardiologo Meraviglioso E anche Un psicanalista Io adesso Tu sei qui E io Se fossi un politico Mi starei zitto Ma Devo dire che io Questa psicanalisi L'ho combattuta Con tutte le mie forze Perché ho sempre ritenuto Che in qualche misura Abbia condizionato Anche la decisione Di sanità E di rivisitazione Di se stessi Come Diciamo Analisi Primaria Invece Prima bisogna Mettere un pochino D'ordine Come non fa la cura Dimagrante Non è che Devi andare Da gli etologi Prima Ti devi In qualche modo Cominciare a privare Degli zuccheri Il pane Di alcune Di alcuni cibi Dopodiché Quando sei un pochino Più asciutto Vai dal dietologo Ti puoi far mettere Il palloncino Fare la riduzione Dello stomaco Però devi In qualche modo Anche In primis Essere tu A fare la scelta E ad iniziare Un percorso La stessa cosa Vare con il vostro lettino Non è che voi siete La salvezza del mondo E molta gente Non lo deve credere Questo Perché se no Che cosa fanno Si adagiano Sul lettino Ma ci si adagiano In maniera Forse troppo copiosa Prima di arrivare A lettino Devi fare Tu Mettere un pochino D'ordine Quando ti si presentano Poi Ovviamente Tu trovi più facilità Anche nell'andare A perlustrarli A cercare Le ragioni Di certi malediti Di certe convivenze Con il loro ego Però prima Bisogna operare noi Secondo me Dimmi se sbaglio Quello che dice Sacro Santo Nel senso che Anche quando arrivano A studio persone Arrivano con consapevolezza Vogliono il miracolo Poi capito Il miracolo Non si ottiene Dall'analista Si ottiene Da noi stessi La consapevolezza È dentro di noi Infatti L'arte dell'analista È maieutica Ti aiuto a tirar fuori La verità che è in te Ma non posso Sostituirmi a te Assolutamente E quindi Quando c'è già Un percorso Di rielaborazione Più facile È come Il cattolico Col prete Dietro alla grata Ce vai Ma se dopo Fai peggio De come hai fatto Prima di inginocchiate Sei un paragnosta Scusa Per non dire Francesismi Senti Ancora Ma guarda Come vorrei essere lì Venato Se la favola mia Katia Di un amore Di un amore Di un amore Da buttare Rimari Senti Dentro l'amore Sei È così che ti sveglierai Quando muore una musica Niente principio Re E ti sfiorano l'anima Due mani Nessun Chissà se c'è Relato zero Laurenti Franca Evangelisti Nel fondo di un amore È la prima volta che te la canto Io credo che sia Una delle seconde volte Che la sento da te Perché la prima Era soltanto Warrers Light And rain And light It's a lot Perché noi facciamo Non lo sa molta gente Non lo sa No 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 Usiamo l'italianese Che sarebbe inglese italianizzato Sì Per quando non si è il testo Si comincia a blaterà Il fanagano Warrers Questa sinfonia De nonsense E poi sopra ci vanno le parole Capito? Bene Grazie Renato No grazie a te Grazie Renato Foraggio Grazie Renato Renato ma ti stai divertendo Qui in questo salotto Perché è la tua prima volta Mi sono messo Un ringhieri Perché c'era pure la telecamera Ho detto Dico Hai capito Fammi far bello Capito Certo Senti allora Mi sta facendo Segnale di là Luciano Che dobbiamo andare in pubblicità 3775 104 500 Mentre siamo in pubblicità Vi prometto Perché le promesse Liberatemi Che 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 Leggeremo Che Venato Leggerà I vostri Dottoressa A tra poco Si prenda cura Del mio cervello Io le donne Non le capisco Scusate volevo dire una cosa Mi dice Ma non ho mai sentito Mi dice Sonia pronti per il coro Mi metto le cuffiette E tutto Ma come faccio a far il coro È difficilissimo Ma questa è napoletana Sì ma è difficile La provetta ci vorrebbe però La provetta La provetta c'è lui Oltretutto è difficilissimo Ma lui lo fa Perché così Lui lo fa Uno sbaglia Uno sbaglia Ho capito Senegato Professore E mettere in imbarazzo Ma ci ho voluto Bene A te Tu mi hai voluto Bene A me O non ci amando Chi Mai Voto tu Distrattamente Pienso A me Ecco lì Ho avuto anche L'armonia Di Renato Vabbè grazie Ci ha fatto cantare Tu sei riuscito Dove io non sono mai riuscito A cantare con Renato Bello Senti Renatino Dai Abbiamo ancora poco Il Roma C'è uno cammina per strada E c'è una buca C'è i topi Dappertutto Ci sono i cinghiali Che non sono i sorcini Che non sono i sorcini Abbiamo i cinghiali in giro Che tu esci E ti devi dipendere In questa occasione Devo fare Una sorta di Dichiarazione Proprio Di Un chiarimento Diciamo In questo senso Che C'è sempre Questo desiderio Da parte Di questa classe Dirigente Politica Di andare A guadagnarsi La poltrona Quella del comune Di Roma Non ci corre Nessuno Ad aggiudicarsela E Questa signora Raggi A un certo punto Riflettendoci Un pochino Tutte queste Responsabilità Forse Non mi sento più Di accreditargliele Perché Il fatto Che Lei In qualche modo Avrebbe potuto Certamente Sollevarsi Dall'incarico E passare La palla A qualcun altro Ma Questo qualcun altro Mi pare Che non sia In grado Di prendersi Questa responsabilità Di andare Ad operare Con un portafoglio Desertico In una volontà Che non è Né del governo Né dello stato Città del Vaticano E né della capitale D'Italia Che dovrebbe essere Rappresentabile Con una città Immacolata Dove Chiunque viene A Roma Sente questa Autorità E questo Grande benessere Di avere a che fare Con la capitale Non d'Italia Ma del mondo Quindi voglio dire Che questa raggi In fondo Sta pagando Con questa sua Permanenza Lo scotto Di qualcun altro Che non ha il coraggio Di andare a prendere Il suo posto Perché sarebbe molto Scomodo A questo punto Per chiunque Andare ad operare In una situazione Politica ed economica Della città Ormai tracollata Ma lei non ci ha neanche mai pensato Di lasciare il testimone Qualcuno Nel senso Dice Chi vuole Però Devo stabilire Ancora Se ci fosse stata La volontà In qualche modo Di mettere in discussione L'operato Della Raggi In altri tempi La Raggi Sarebbe Stata costretta A lasciare La poltrona Molto prima di ora Perché è successo Storicamente In altre occasioni E in altri Momenti storici Che quando le cose Non funzionavano Ritorniamo sempre Al fatto Della responsabilità Collettiva Che non riguarda Solo la Raggi Ma tutta l'amministrazione Quindi Se uno Contestasse Veramente L'operato Della Raggi Sarebbe stata Sollevata Dal suo incarico Molto tempo fa Se vogliamo Essere sinceri Adesso non voglio Prendere Le posizioni Specifiche Siccome sono romano E siccome Il benessere Di questa città Mi sta a cuore Come a tutti i romani Ma come a tutti gli italiani Ecco Facciamo anche Un altro Un altro piccolo pensiero Che Desta città Non gliene fotte niente Non solo ai romani Perché ovviamente Si rendono conto Dell'impotenza Di non poterla Difendere Questa città Ma addirittura Tutta l'Italia Non gliene frega niente Allora io ci avrei Una proposta da fare Torino Capitale d'Italia E capitale del governo Cioè Se nannassero tutti A Torino Che è una città Meravigliosa Dove si lavora È operosa È piena di spunti Per poter riflettere C'è un'aria Meravigliosa E Roma La riconsegnassero Al turismo La riconsegnassero Al patrimonio culturale Ai musei A tutto il resto C'era una legge Mi pare Nel 72 Che avrebbero dovuto Andarsene Allo sdol Seconda nell'annulare Questi politici Perché non ci sono andati Sai che vuol dire Averli Nel centro Di Roma Tutto questo Vi avete macchinette Blu Piuttosto che bianche Piuttosto che Mimetizzate Sai quello che comporta I romani Sai che io Ho la residenza In centro E per andare in centro Devo pagare Un quantum All'anno Per poter Andare a casa mia Ma te rendi conto Che devo mangiare Pane E scarpe di prada Perché non c'è Neanche Un servizio Dove uno Si possa Rifocillare Cioè voglio dire Questo centro È diventato Presidio Di quest'andazzo Dei ministeri Della politica E questo Non lo trovo giusto Quindi facciamo Se fiamo Una petizione domani De trasferire Il governo a Torino Io firmo subito Anzi Lo firmo subito Guarda Ma lo metti qua Ti do un foglio Tieni Aspetta Allora Torino Torino capitale Capitale D'Italia D'Italia Sede Del governo Ecco 1861 Noi perché siamo Tradizionalisti Roma Capitale Della cristianità Questo lo accettiamo Renato Renato Fiacchini Manco Renato Zero Così siete sicuri Che so io Ragazzi Questo è incredibile Questo lo incondiciamo È un documento Però Renato Volevo dire Al di là di Torino E già ci stanno Stanno trasferendo Tutti a Milano Cioè gli uffici Più importanti Oramai Milano Ci sta svuotando Milano sta facendo Un lavoro Molto Intelligente Furbo E anche furbo Perché questo Portare a Milano Ulteriore foraggio Ulteriore energia Toglie al meridione D'Italia Cioè tutto quello Che va nel nord Viene tolto Come Prospettiva Al sud D'Italia Perché A Milano Il lavoro Si trova Più Nel sud Non si trova A Milano C'è più controllo A Milano Non c'è una carta Per terra È tutto ordinato Non c'è una buca Cioè voglio dire Qui stiamo tornando Pericolosamente A questo Settaggio Del paese Cioè Chi nasce Chi sbaglia Culla Qui sa Pianderculo Se dice a Roma Quindi Stiamo attenti A non fare l'errore Poi Di allontanare Ancora di più Questo sud Questo meridione D'Italia Che ha Fra l'altro Se vai a vedere Le lauree Che vengono Distribuite In questo paese La maggior parte Sottargate Calabria Sicilia Puglia Perché so quelli Che studiano Di più E so quelli Che si E questa è una cosa Che ho verificato Per esempio Ma l'Italia è tagliata In due No in tre È tagliata invece Addirittura in tre Moffampo sarà tagliata Quante regioni siamo No centro E sud Del sud E del sud Io poi sono napoletana Figura di come Antonio Come Antonio Le pugliese Però Il problema È proprio questo Io una volta Quando è stato di recente Ho preso un treno Per andare in Calabria No allora Fino a Napoli Fino a Salendo C'è l'alta velocità Poi puoi morire Penso Perché il treno Incomincia a ballare tutto Le mie amiche Calabresi Mi hanno detto Ti raccomando Portati Una xamamina Qualcosa Per non soffrire Come soffrire il treno Perché non ci sono I binari giusti Per il treno Cioè È proprio È tutto Cioè il sud non esiste Ma l'Italia Non può essere A Roma pure Anche da Napoli A Bari È un problema Bravissimo Cioè fino a Bari C'è l'alta velocità Stiamo facendo Alta velocità La tappa La tappa Eccetera Per andare da Napoli A Bari Si va su un binario Cioè è allucinante Comunque l'Italia Sa da fare Ancora Sì ma il problema Disse qualcuno Però Renato il problema Io penso Che sicuramente Gli incapaci Che sono adesso Al governo È nato presidente Della Repubblica No no per carità Gli incapaci Che sono adesso Al governo Dipendono anche Da quelli di prima Perché se quelli di prima Fossero stati Minimamente Onesti O capaci Non si sarebbe Eletto A requisito Fondamentale Un prerequisito Cioè tu per Governare Deve essere Una persona onesta E questo è il prerequisito Invece parecchia gente Adesso è andata Al governo Con l'unico titolo Di essere Presunto Una persona onesta E come dire Io sono onesto Non faccio il medico Però te faccio L'angioplastica Perché sono onesto Se tu non capisci niente Puoi essere onesto Quanto vuoi Ma sempre Incompetente Ci vuole proprio Essere ferrati Nella materia Che si rappresenta Perché Non esiste Che uno Che sia Ministro Della Sanità Non conosca I problemi Della corsia I problemi Dei turni I problemi Di un pronto soccorso Ci sono tante modalità E tante Piccole Ma enormi Difficoltà Proprio nella gestione Che se non c'è una persona Che è Competente Di quella materia Non si fa mai giorno Tu sei ministro degli esteri Non si è manco l'inglese Sperando che tu sappi Vorrei ritornare Alla proposta di Torino E dire ai torinesi Che li adoro Non è una punizione la mia Anzi Vi voglio proprio Manifestare Siccome Torino Ce l'ho nel cuore Manifestare Che questa preferenza Verso di voi È perché Torino Sembra Sembra Parigi Quando era Parigi Però non adesso Cioè Avete guadagnato Proprio questa bellezza Avete rispolverato La vostra storia La vostra emancipazione Quindi Non ci starebbe male Il governo Da voi Lo dico Non per prendere Delle distanze Dal pensiero Ma perché Abbiamo bisogno Proprio Di certezze Abbiamo bisogno Che ogni cosa Stia al posto suo Che merita L'Italia Deve ritornare Nel mondo Ad essere l'Italia Basta con le multinazionali E mettiamo fuori Questi artigiani Riviviamo di quello Che siamo capaci Di fare Nel turismo Nell'imprenditoria Quella Diciamo Io per esempio Le marche Ci sono questi Che fanno le scarpe Nelle marche Queste fabbriche Che stanno lì Se le fanno ancora a mano Eccetera Questa nostra realtà Che sembra piccola Ma quando andavamo Ad addizionare Queste piccole realtà Diventava L'economia del paese Ma sti mari E queste spiagge Ma le vogliamo Riconsegnare Al turista Era la fonte Maggiore Insieme all'agricoltura E alle bellezze Della nostra storia Anche questo mare Era fonte Proprio di grande Riscatto per l'Italia Ritorniamo a fare Quegli investimenti Invece De fare i ponti Che crollano Senti però Voglio dire una cosa Il fatto che Secondo te Deba essere Trasserito A Torino E tutto È un grande fallimento Per Roma Perché non è Viuscito a gestire E non è Viuscito a gestire Quello che ha No È una liberazione Per Roma E non solo per Roma Ma per la storia Capito Perché il Colosseo Tu li distingui più Il Colosseo Dal degrado Sembra Il Colosseo Sembra Il manifesto Del degrado romano Non vai a pensare Che ci sono stati I gladiatori I leoni I cristiani E l'impero romano Però pure c'è un discorso Scusami Una colpa A livello governativo Ma perché Sulla capitale Gravitano ogni giorno Migliaia E centinaia Di migliaia Di Da turisti A gente che vive fuori E viene la mattina Per lavorare Quindi È un po' Ad organetto A fisarmonica No E quindi E poi a Roma Vengono a fare Le manifestazioni A Roma Ma perché c'è il governo Ritorniamo sempre lì No 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 ma ho capito Dico una cosa Perché c'è E qui c'è Capito Scusami scusi Ma perché Non sono dati Degli stanziamenti Per aiutare Questa città Perché non può gravità Tutto Su Roma Tutto a spese Della capitale Se diamo dei fondi Se diamo dei fondi a Roma Allora li dobbiamo Da Brescia Vicenza Così ma che c'entra Cioè ci sono dei costi Maggiori per gestire Una città Guarda Milano È un quarto di Roma Come densità E come Come proprio Però Milano Ha voluto l'Espò L'Espò L'ha aiutato a fare Un grande salto Noi avevamo la possibilità Noi abbiamo rifiutato Le Olimpiadi Ragazzi Eh dai Questo sono Delle colpe Di qualcuno Eh di chi Di un incapace È come Voglio dire Costruire La mole Antonelliana Sulla mole Antonelliana Cioè Capito Aggiungere Volume Popolamento Grandi E grandi Interventi Ma sempre Sulla base Di una Di una Disfunzione Questa città Soffre di disfunzioni Cioè non è più In grado di badare A se stessa Perché Roma È anche Centocelle È anche Pietralata È anche Torbella Monaca È anche Rospia Tiburtino Terzo Ragazzi È anche Ostia Quando Il sabato Domenica È Ostia Poi da lunedì In poi Ed è Ostia Ed è Roma Cioè Anche lì Se mettessero d'accordo Senti ma Vai No no Concludo Concludo Dicendo che Roma I Romani Capito A noi Ci hanno cacciato via Perché L'ospedale Si era comprato Il palazzo Però molti romani L'hanno mandati via Con l'inganno Perché gli hanno detto Puoi andare A urinare Finalmente Non più sul ballatoio A gennaio Ma ci avrai Il bagnetto Dentro casa E sti romani Abboccarono E se ne andarono A Torbella Monaca Piuttosto che a Tordecenci Perché c'avevano Il bagno Dentro casa Quando sono andati Via i romani Sti fede Una mignotta Che hanno fatto Si sono messi Il bagno Dentro casa Però avevano Le travi Avevano Il palazzo Ottocentesco Avevano Questi Voglio dire Se Tutto ciò Che non è Roma Fosse in qualche modo Opportunamente Destinato Ad un altro Recipiente Che sia Incontaminabile Noi saremmo Tutti salvi E questa città Torne debba Ad essere La capitale Del mondo Così parlò Zero Tustra Senti ma Le sardine Le sardine Sott'olio No viva viva Io sono sempre stato Che ho detto sempre Albe la piazza Deve rivivere Deve essere accesa Mostra piazza Si sta riaccendendo Con le sardine Anche per grande soddisfazione Di Renato Perché la piazza Deve Deve animarsi Deve Deve mostrare I suoi valori E La sua consistenza E soprattutto Le idee La voce della gente Non vogliamo essere schiacciati Ti provo a dire una cosa Ma si è mai visto Che gente scende in piazza Per andare contro All'opposizione Che oggi Non ha possibilità Di prendere nessuna decisione Poi dico Vai a votare Ma la paura che forse Quell'opposizione Possa in qualche modo Pericolosamente Prendere il sopravvento Antonio La cosa che a me Lasciò Poco tempo fa Abbastanza stupefatto Fu quando si fece Il referendum Sui trasporti a Roma Ora I trasporti a Roma Fanno schifo Lo sappiamo tutti Tutti protestano Per i trasporti Si fa il referendum Sui trasporti Sai quanta gente Ci ha votato a quel referendum Il 16% Allora tu dici Ma porca miseria Te sei lamentata Fino a ieri E non vai a votare E allora A quel punto Ti cadono le braccia L'informazione è pilotata Anche Non te lo dimenticare Antonio Vabbè ma Il 16% Certe informazioni Vengono offerte Con i tamburi Proprio E certe altre Se ci fate caso Vengono Così Con i denti stretti Perché ci hanno paura Che poi uno colga La palla al balzo E faccia la scelta giusta Capito Che ti voglio dire Quindi Ragazzi Noi siamo pilotati Allora mettiamocelo bene In testa Che questa situazione Di stallo Di un paese Che non presenta Neanche Un bilancio Ragazzi È pericolosamente Vivo questo timore Capito Che Non c'è più un controllo Non siamo più In grado Di poter In qualche modo Ognuno di noi Sentirsi protetto Difeso E soprattutto Rappresentato Roma è De terapia intensiva Ormai E ora parliamo Sbagliando di Roma Parliamo della Roma Ma che cosa Io sono Napoli Mi dispiace Mezza Napoli Mezza Lazio Ma la Roma Sono un allenatore Che mi dici Cioè Questa squadra È in vendita Non è in vendita Ecco Allora io firmo Un altro foglio Aspetta Che Aspetta Tieni pulito Il foglio Allora Dai Belli questi Problemi Vorrei Che La mia Squadra La Roma Fosse Composta Da romani Di giocatori Romani Italiani No Cittadinanza Documentata Anche se Pensa Di Colore Di pelle Diverso Perché Ci stanno tanti romani Arena di A bello Sono scuri E certo Quindi Sono più romani Detente Esatto Firmato Renato Ecco Il secondo documento Ufficiale Oggi Mi voglio rovinare Come dicono quelli I piazzisti Non per cento Non per mille Grazie Bello Bello Renato Grazie Renato E soprattutto A questi Microfoni Aperti In tutti i sensi Perché insomma Anche ormai Siamo rimasti pochi Possiamo 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 Sbandierare i nostri pensieri Le nostre esigenze La nostra personalità Qualsiasi cosa Abbia il sapore Dell'autonomia Dell'autonomia E della libertà Esatto Io non te la faccio la domanda Se le donne le capisci Visto io le donne non le capisco Le donne le capisce Chi riconosce Quegli uomini Che riconoscono In sé Quella porzione Di ormoni femminili Che serve Proprio A Equilibrare La ragionevolezza Il rispetto E la volontà Di Considerare Le donne Alla nostra Stessa stregua Bello Bravo Bravo Allora Volevo dire Ai tantissimi Perché tu devi sapere Che ci sono Adesso In trasmissioni Sono venuti Tanti messaggi Ma sapessi Centinaia Centinaia Ci sono arrivati Nella posta privata Del nostro blog Io le donne Non le capisco Io te li faccio Per venire Perché li dovrei Leggere uno a uno Perché Me li mandi però A blocchi Te li mando A blocchi Perché 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 veramente Daniele Darieti Tiziano Dacave Saluto tutti Siete stati meravigliosi A scrivermi Perché questo Mi offre La sensazione Di essere ancora utile Di poter in qualche modo Con la mia modesta opera Di stimolare Di stimolare anche un po' La giustezza Della società E motivare bene Le nostre finalità Perché in fondo Io ho fatto La terza media E non più E delle volte Veramente Mi guardo A quel famoso specchio Che hai detto a te E mi faccio E mi faccio Sta domanda Ma dove L'ha imparata Tutte queste cose E io Mi rispondo Dal marciapiede Tu hai dato tanto I tuoi soccini E loro hanno dato Tanto a me Io quello volevo sapere Ti hanno dato Affettivamente Ma ti hanno anche Come dire Nella vita Magari Ti sei trovato Di fronte Anche nella vita Di tutti i giorni A dire Faccio sta cosa Capito E poi no Perché altrimenti Deluderei Cioè Io non ho fatto cose Per fortuna Non ho fatto mai scelte Non confacenti Al pensiero Che andassero poi Rivolte verso il pubblico Verso gli altri Capito Quindi loro ti hanno Cambiato un po' Ma delle volte Ho fatto anche Delle scelte azzardate Come Zeroski Che sta 30 anni avanti Rispetto a qualunque Forma di spettacolo In Italia Però l'ho voluto Anticipare Anche perché Ho quasi 70 anni E mi ripropongo Di rompere Proprio le scatole Ad oltranza Perché De sta in panchina Non ce n'ho Nessuna voglia E non voglio dare Ai miei detrattori Nessuna possibilità Di sentirsi Vincitori Perché Chi vince È Renato Tutti i giorni Quando incontra Un pentagramma Quando ha qualcosa Da dire Quando assorbe Dalla strada Gli umori Della gente E riesce Con fedeltà E senso civile Della vita Del vivere Riesce a consegnare Intatte Quelle che sono Le problematiche E le speranze Dell'Italia Ragazzi Renato Fu il presidente Devo dire No Devo dire A quelli che Mi hanno costretto Ad abbandonare Il banco Dopo la terza media A buon intendito Poche parole Ragazzi Se sei stanco Terminiamo la termine Se sei stanco Ti tirano le pedre Sei stanco Qualunque cosa Qualunque cosa Ti tirano Dovunque te ne stai Tu sempre pietre in faccia Sentirai Perfetto Allora Marta Mi porti le magliette Marta porta Porta pure Una bella pasta e fagioli Che è ora Guarda c'è uno Che ha scritto Che ti voleva fare La pasta e fagioli Amore Capiti proprio Acceso Acceso O a fagiolo Scusami Stavolta mi hai fregato Mi ci ho salzato pure presto Stamattina Per farmi fregare da te Ma guarda Che impunita Annaccia Sta arrivando la maglietta Perché sai Bene Zero il folle Zero il folle Ma siamo tutti folli Quindi chissà che si inventerà Nel futuro Fa vedere Oh che bellezza Guarda Questa Se vuoi Quando esci per Roma Se ti va Vediamo la misura Se va bene Altrimenti te la scambi Con Antonio Eh più o meno C'abbiamo la stessa misura Ne sai Vediamo Ma dai C'è un pennarello Un pennarello Un pennarello Un pennarello Ah e allora Qua me la dedica La faccio fare Io la dedica Qua me la faccio fare Ce l'ho io Nel Nel mio marsupietto C'ho il pennarello Quello grosso Cicciotto Oggi sta in vena Di scrivere E disegnare È più creativo Anzi Ricordatemi E Babbo Natale Che gli do manda Una letterina Perché sono anni Che non mi fila Una volta Gli si rompa La slitta L'altra volta Pensa Gli si so girate Le renne No Ha chiamato Il veterinario È arrivato lì E al serene Gli è andata vicino Gli ha fatto una cosa E ste renne Si so girate Allora Babbo Natale Gli ha detto Al veterinario Scusi Ma che Come ha fatto A girare ste renne Gli ho dato il vortare Questa è bella Gli ho dato il vortare Gesù mio Sono una bianca Questa Questa Lui le capisce Mettici la firma Firmamela questa Dai che bella I lamponi Tiranoci Sì No pure del lampo Sto qua apposta Renato Bello Bellissimo Questa me la conservo E la Questa me la metterò Sempre Sempre Bene Renato Che dirti Grazie dello spazio Grazie Perdonatemi Della franchezza Ma Siamo romani Evviva la franchezza Quello che ci abbiamo in bocca Ci abbiamo sul cuore Esatto E' vero Apprendeteci così E' vero Guarda Veramente grazie Grazie a tutti Continuano a scrivere Un abbraccio forte a tutti E ascoltate questa radio Che dice la verità Bello Fa piacere dirlo Ok Un bacio a tutti ragazzi Ciao Volevo ringraziare Antonio Rebuzzi Boss Della cardiologia Del Policlinico Gemelli di Roma Questo fa più dell'aspirina Grazie a te Rebuzzi Questo fa più dell'aspirina E' vero Questo guarisce tutto Zero Zero il folle Ragazzi Credeteci E' veramente spettacolare Spettacolare Veramente Grazie Luciano Grazie Valeria Grazie Buon Natale a tutti Anche con un po' di anticipo Grazie E lo vogliamo sentire E lo vogliamo sentire Sto calore Questo Belle Questa bella Speranza proprio Anche no? Questo Natale Che sia finalmente Quello Di ricongiungerci Anche con noi stessi Vero dottoressa Assolutamente Perché queste date Sono importanti Anche per sviluppare Meglio Non solo i cinque sensi Ma anche Il nostro rapporto Con il mondo Con la vita Ma anche con la natura Che sta natura Visto Grazie a Renato Zero Grazie a tutti voi Soccini Renato Zero Leggerà tutti i vostri messaggi Ciao a tutti Grazie a tutti